Salve a tutti, sono Carlo Vallotto, un trader indipendente da circa 24 anni, mi sono addentrato in questo mondo e da circa 15 anni sono formatore per coloro che vogliono intraprendere la carriera del trading. Mi occupo del settore delle commodity, nello special modo dei metalli preziosi, ma anche di tutte le altre commodity, quindi gli energetici e gli agricoli. Il mio sito è metallipreziosi.it, i miei contatti li trovate qui oppure comunque basta fare qualsiasi ricerca su internet che trovate appunto i miei contatti. Abbiamo preparato questo corso introduttivo al trading sul gold in esclusiva per la Zen Forex Academy, per Zen Official ed è disponibile appunto gratuitamente per tutti coloro che si iscriveranno gratuitamente appunto alla Zen Academy. In particolar modo in questo corso introduttivo approfondiremo i seguenti punti. Oro come asset e come garanzia, quali sono le sue caratteristiche, una breve storia dell'oro, gli utilizzi dell'oro, dei metalli preziosi in tutti i campi della nostra vita, quali sono le news macroeconomiche da guardare e siamo entriamo nel vivo proprio dell'attualità, abbiamo sentito anche in questo periodo appunto l'inflazione, le decisioni della Federal Reserve e delle principali banche centrali. Andremo a vedere una cosa importante, dove si contratta il gold, perché il gold appunto è un mercato estremamente importante, ricordiamo che è il più importante, è uno tra i più, è il quarto mercato in particolare più importante al mondo. E poi naturalmente andremo a guardare l'aspetto tecnico, ovvero quali sono gli indicatori da guardare e cercare di comprendere il trading del gold in dettaglio. Ricordatevi di invitare anche i vostri amici ad iscriversi all'area membri del sito Zen Official e potranno appunto usufruire anche di altri corsi e altri tools in maniera gratuita. Vi invito a visitare appunto il sito zenofficial.com e a seguire le pagine Zenforex sui vari social, Telegram, Instagram, YouTube e Facebook. E cosa importante, spero che tutti quanti sarete contenti di questo corso e appunto spero che potrete dare un feedback positivo sul sito trustpilotreviewzenofficial.com. Grazie a tutti, vi aspetto, buona visione per questo corso. Grazie.